Siamo con Miriam Catania alla presentazione del film Tutto l'amore del mondo. Miriam, chi è il tuo personaggio? Valentina è una ragazza, una pazza, energica, vitale, con un'allegria contagiosa, istintiva. Quanto c'è di lei nel tuo personaggio? Di te nel tuo personaggio? Beh, devo dire che al provino sono stata presa forse anche perché ci sono dei lati in comune con Valentina. Valentina ovviamente è più sopra le righe, è più esagerata, è più esasperata di me, però anche io sono una persona molto libera, molto allegra, molto energica, mi piace dare, mi piace dire. Come mai secondo te ti ha scelto proprio per questo personaggio il regista? Per questo, ti dicevo, poi sono arrivata al provino, c'avevo questa scena divertentissima dove dovevo veramente fare la pazza e ho dato il meglio di me. Senti, come ti sei trovata a recitare con tutto il cast, con Roy, a vaporidissimo, benissimo, ci siamo divertiti a morire. C'è stata la grande fortuna di avere una sintonia immediata, ci siamo fatti questo viaggio insieme, sia quindi come personaggi del film che come attori, noi come persone abbiamo fatto un viaggio insieme, ci siamo conosciuti in questo viaggio, è stato molto bello, molto divertente e molto importante, perché è stata un'esperienza anche importante per la nostra vita. Dei luoghi che hai visitato, qual è quello che più ti ho rimesso nel cuore? Beh, sono bellissime le città che abbiamo visto, però io ho una sintonia particolare forse con la Spagna. A Barcellona eravamo felicissimi quando camminavamo per la Rambla, andavamo a mangiare i ristoranti spagnoli, il pesce nel mercato, forse Barcellona è la città che mi è piaciuta di più. Grazie Miriam e un bocca al lupo. Crepi! Grazie, ciao.